Moda, glamour, innovazione, tradizione e tanta creatività. Sala degli elefanti della birreria Pedavena, gremita in occasione di Back to the Future. La sfilata di moda a cura della scuola di formazione professionale Eneip Veneto di Feltre. Stupore, meraviglia, incanto, tante le emozioni provate dal pubblico condotto in un immaginario viaggio nel tempo attraverso la bellezza, le acconciature e lo stile. Siamo passati dall'epoca medievale con il gruppo Svangiratore Città di Feltre all'epoca 800-900 con il gruppo Folk e il Museo Serabella. Siamo stati anche negli anni 50, 60, 70 per finire nell'epoca attuale senza dimenticare le leggende. Le leggende venunese che sicuramente conoscete l'Homselvarek piuttosto che le strighe. Un'occasione per gli studenti per dare sfogo al proprio talento trasferendo in un progetto concreto quanto appreso tra i banchi e nelle numerose ore di laboratorio. Il Ministro Benessere si è occupato dell'allestimento, si è occupato anche proprio della preparazione di modelli mentre la cucina ci ha regalato un'esperienza gourmet attraversando le varie epoche con delle ricette e con prodotti del territorio. È stata un'ottima occasione per avvicinare le realtà territoriali del belunese alla scuola del fare. La scuola di formazione professionale EMEIP è da anni vicino alle tradizioni belunese, vicino alle associazioni e stasera abbiamo potuto dimostrare tutto questo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!